Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy Ve lo state godendo questo Black Friday? Io sì Io no Perché quello che vuoi che va in sconto è fra poco, quindi rispetto a quando registriamo In questo caso ragazzi per questa due giorni UKYS ha un ulteriore sconto Invece che il solito codice PD per avere lo sconto dovete semplicemente aggiungere BF BF PD Quindi non abbiamo allungato la bestemmia Diventa un codice fiscale Esatto Però con questo riuscite ad avere sia gli sconti su Windows 10 sia su Office Tutte le varie licenze a ancora meno di quello che le pagate di solito Comunque ragazzi come abbiamo detto nello scorso video Beh innanzitutto ringraziamo tutte le persone che stanno entrando nei video Perché veramente Che stanno entrando nei video Esatto Che stanno entrando nel canale Vi ringraziamo tutti e veramente grazie mille Anche perché state arrivando in tanti e molto probabilmente è tutta colpa delle console Grazie davvero e benvenuti a tutti Comunque scherzi a parte Come abbiamo detto il video di Black Friday Qua sotto vi lasciamo tutti i link Canale di Trilano delle offerte Per appunto andare a prendere i prodotti di cui parleremo oggi Perché come abbiamo detto nello scorso video Non faremo quest'anno le build Bravo Però questo non vuol dire che non possiate recuperarvi i pezzi Che vi servono per fare queste build Perché la build non è solo una scheda video e il processore Che sono le parti che non si trovano Ma è anche tutta altra roba Un altro contorno Ma soprattutto se noi diciamo di non fare le build Non vuol dire che la gente non le faccia Esatto Non è che blocchiamo gli acquisti a tutti noi Ed è proprio per questo che facciamo questo video Perché gli sconti del Black Friday di fatto non sono partiti solo ieri Ma c'è stata tutta la Black Week E non solo Amazon ma tanti altri store Hanno fatto sconti per questa settimana Quindi oggi abbiamo preso in analisi i pezzi per PC Che avete comprato di più E per quello l'abbiamo chiamato il PC più comprato Il primo tra tutti sono le body sticks No in realtà è il mouse Il G502 Hero Io l'odio il G502 Avevo capito ma te lo regalava Amazon praticamente 35 euro Ti dava un buono Amazon da 40 euro se lo prendevi Davvero? No Comunque costava 35 euro Mouse che a me non piace per niente L'ho avuto Non l'ho apprezzato Però raga Cioè 35 euro Va bene Qualità prezzo Cioè è una roba veramente assurda Considerando però che da ieri sera Sono disponibili anche gli MM710 711 Che abbiamo parlato anche nel video Quelli potrebbero essere già un po' meglio Sì quelli forellati di Cooler Master Altre cose ragazzi che sta sbancando E per la build è fantastica Sono le run balli sticks Assolutamente Il modello sbagliato però sta sbancando Perché c'è il modello RGB E il modello non RGB Sono andati in sconto entrambi in queste settimane E molto tempo Non sono le migliori Non sono bidà Non sono Però vanno benissimo per una build Che dovete fare in questo momento Il vero problema è che Cioè ve le stanno vendendo a prezzi assurdi Cioè settimana in settimana Sono scese addirittura a 49 euro 16 giga 3200 megahertz Cioè 49 euro Cioè veramente un prezzo Che tu dici Vabbè le prendo E poi mi faccio la build E anche le 3006 Non costano così tanto No infatti Certo Costano una manciata di euro In più Ma veramente Giocate su console Le prendo Magari in futuro mi faccio un pc Le tengo lì nel cassetto Il secondo prodotto Ovviamente sempre memorie I più acquistati In genere Sarebbe il terzo Però vabbè Lasciamo perdere il mouse Per un momento In questo caso ci sono stati tanti sconti E questo è lo sconto Che è andato di più durante la settimana Ma in realtà ieri sera A partire da ieri sera Ci sono stati per un po' di tempo I Subrent Infatti Volevo farvi questo discorso C'è stato il Sambo In offerta In via mia 880 euro Poi il 970 Evo di Samsung Sul centello E poi il Subrent Che secondo me È il miglior assoluto Perché a 150 euro C'era il Tera 4.0 NVMe Esatto Quindi ready per le app Quindi ready per le app nuove di Microsoft Quindi il direct storage Per sfruttare Tutti gli envimi sono Infatti Sto dicendo In che senso Però Sfrutti il 4.0 Arrivi a 5000 Megabyte al secondo È un signor SSD A 150 euro Cioè un anno fa Questi si pagavano 400 euro Sì tra l'altro Infatti Da quando è arrivato Il 4.0 di Subrent Le cose già si sono Un pochettino più assestate Però di fatto È l'unico Che costa così poco A 12 Qualità prezzo È fantastico Veramente Io per una build Future Proof Ve lo consiglio Sinceramente È un bel prodotto Tutto qua sotto In descrizione Altro prodotto Che io amo E qua Ve lo dico ragazzi Le cuffie da gaming Non esistono E sono tutte Cagate Tutte Purtroppo esistono Però in generale È nominarne da gaming Cuffie da gaming Vuol dire che devi avere Una funzione Che ti dà qualcosa in più Nel gaming L'unica sono le Odyssey Mobius Quelle sono le uniche Cuffie da gaming In commercio Perché ti danno Qualcosa in più In gaming Vabbè adesso ce ne sono Anche altre Sì vabbè chiaro Però in generale Avete capito l'antifona Questa settimana Sono andate le HD 599 A 100 euro Che è la quasi Metà prezzo Esatto Cuffie che di solito Stanno nell'intorno Di 200 Che comunque hanno Un'ottima resa Per il prezzo Che hanno Quindi è buona Il fatto che le abbiate Comprate in tanti E che abbiate Forse le abbiamo consigliate In qualche video Può essere Può essere Vabbè Però a 99 euro Solo i nostri amici Le hanno comprate 40 acquisti A 99 euro Poi vi fate Un microfono esterno Clip O USB Come volete E veramente Avete un setup Che è superiore A qualsiasi cuffia Da gaming Già così Ma proprio Tranquillamente Secondo me È passato agli scherzi Davvero È stato il passaparola Che abbiamo fatto Su Whatsapp Che l'hanno comprata Tutti i nostri amici E basta Di loro forse uno Un'altra cosa carina Che è successa Durante questa settimana È che si è abbastato Di una venti Trentina di euro Anche il Gungnir Di MSI Che è uno dei nuovi case Della line up di MSI Che stanno Diciamo Sempre più spopolando Ma in realtà È uscito Già un anno fa Se non ricordo male Il Gungnir Bel case Mid tower Non mini TX Questo mi fa incazzare Però bel case Ti l'hai provato? Sì 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 Ci hai montato un pc Bello È carino È carino Non è niente male davvero Cioè vedete ragazzi È un bel case Te lo porti a casa 20-25 ore in meno E già Risparmi sulle RAM Risparmi 20-30 ore sul case Risparmi Sulle memorie E già c'è un centello in più Per CPU Magari se quel centello in più Lo vuoi per Natale Sto dicendo una cosa brutta Ma cercate di capire Quello che sto dicendo Volete il pc assolutamente Per Cyberpunk Quel centello in più Lo reindirizzate Sulla GPU Sovrapprezzata In questo momento La GPU in scalping Che riuscite a trovare Brutto da dire Bruttissimo da dire Però Questo passa al convento In questo momento Però Il passo successivo È proprio la GPU È proprio la GPU È proprio la GPU C'è un discorso da fare effettivamente Perché Per questa settimana Udite udite La GPU più acquistata Da voi È una 3070 E già questo è proprio Mind booming Drop the mic Finito il video Andiamo via Ora c'è un motivo Ora c'è un motivo ovviamente Perché di fatto Per la maggior parte Della settimana È rimasto Due motivi in realtà La maggior parte Della settimana È rimasta Nell'intorno Dei mille Cento Mille euro Comunque Quindi Ben al di sopra Se la comprate a questo prezzo Siete da arresti E sicuramente Non è stato questo il caso Perché Ci sono stati Tre momenti In cui il prezzo È crollato A 630 E in un caso A 670 Comunque Molto al di sotto Di quello che è stato Il prezzo medio Durante la settimana E Il primo punto È che quelli Che l'hanno recuperato Di voi Sicuramente L'hanno presa Tramite il canale Delle offerte Quindi seguiteci Su Instagram Su Telegram Infatti Le segnaliamo Appena ci sono Quello che comunque Va detto È che questa Tu dici Vabbè Una 3070 630 euro Ci sta Cioè cazzo Comunque Tu conta che tre mesi fa Quella scheda lì La pagavi 1.400 Non è un brutto value Il problema È che il modello È una dual di Asus Esatto Un modello che è più scarso Della Founders Che sta a 520 Quindi Anche questa Non è che è È comunque venduta bene A 630 È sovrapprezzata Di 150 euro Questa dovrebbe costare Sotto i 500 Per quanto ci riguarda Arriverà Arriverà a costare Quel tanto lì Speriamo Perché comunque È la peggiore Della line up Asus In questo caso Ovviamente Cioè in questo caso In questo periodo È grasso che cola Ovviamente Se trovate una scheda del genere Sì poi uno mi dice Vabbè io posso Faccio il discorso Della 2080 Ti Comunque ci vado A risparmiare un botto Perché Piuttosto che per la 2080 Ti Costa la metà La volevo per Cyberpunk Allora non condivido Ma capisco Quindi ci sta Ma sì ma poi ci sta Ripeto Cioè con tutta la Col fatto che c'è veramente Così poca disponibilità La gente appena le vede Le compra Ma lo capisco benissimo Nel senso Anche i nostri amici Che stanno aspettando Di farsi il pc Sono lì col mouse Pronto per cliccare Appena ci fuori Ovvio dovete stare attenti Al sovrapprezzo Cioè dovete capire Quanto è gestibile Quanto no Quello che vi dico E non esagerate Nel senso 7, 800, 900 euro No ma anche no Nella 70 La situazione è dinamica Non disponibile Dinamica Disponibile vuol dire Che io vado su ogni Schrivo 30 e 70 Vado all'esse lunga E la trovo Esatto Questo è La scheda è disponibile Dinamica vuol dire Che non esiste Non c'è Però Ogni tanto saltano fuori Da qualche parte Questa è la situazione In questo momento Molto molto meglio Delle 3080 3090 Contando che poi Siamo a 20 giorni Dall'uscita Tra l'altro Infatti Gli altri sono usciti Ben prima Esatto Quindi si Ci sta È più dinamica La situazione Dinamica Non disponibile Dinamica E le cose andranno Solo migliorando Ragazzi Quindi Qui vabbè Senza infamie Senza lode Un TX 650M Di Corsair Come semimodulare Alimentatore A 80 euro Che forse Si potrebbe anche Trovare magari Qualcosa di meglio Però in generale Non è un brutto prezzo Non è un brutto alimentatore Quindi ci sta Anzi È addirittura Più venduto delle tastiere Questo è sorprendente Esatto Io volevo fare Un Poi per finire Per finire no Però per Fare un pacchetto completo Tra CPU E schede madri Perché sono venuti Dopo una moria Di 3600X Su Amazon Non c'erano più Prezzi assurdi Sono venuti fuori Ultimamente In questi giorni qua Anche ieri Dei 3600 Un prezzo accettabile Si 200 210 Comunque in quell'intorno Lì Ci sta Anche la scheda madre Una scheda madre Asus Una B550 Da 250 euro Andate in sconto Di 50 euro 199 Ed era un bel Una bella cosa Se dovete fare una build Comunque già Bella Bella tosta Ecco C'è anche la B450 E lì Chi ci ha seguito Ieri a mezzanotte È riuscito a prenderla Chi si è svegliato Alle 7 di mattina Anche alle 6 Già non c'era più Perché quella è proprio sparita Il discorso più importante Che voglio fare però Permettimi sui monitor Si Perché se la situazione Sulle GPU E sulle CPU È ancora tragica A livello di disponibilità La situazione dei monitor Invece mi fa gasare Di brutto Perché innanzitutto Qua Abbiamo chiesto Noi a Gigabyte Di mandarci due monitor Un UV QHD E un 27 pollici Il Q27N E poi l'UV QHD Non me lo ricordo Perché sono monitor Buoni A un prezzo Veramente basso Vado a prenderlo se vuoi No vabbè Aspetta Diventa un casino in camera Ieri sono andati fuori 3 MESAI AOC LG Dei prezzi Per dei monitor Che veramente Mi hanno fatto felice Assolutamente Perché comprare Un Nano EPS 27 pollici QHD L'850 Il 27GN850 Era il prezzo migliore A 360 euro E infatti purtroppo Anche quello è finito Velocemente Le scorte Quelle che erano in sconto Per cui Ci avete ringraziato In tantissimi Nel video di ieri Quindi Ovviamente siamo contenti Che in tanti Siamo riusciti a recuperarlo Però ovviamente È finito in fretta In un'oretta Era già finito Però sui monitor Ragazzi Anche questi gigabyte Che sono nuovi L'UVUK HD Costa 400 euro E' un bel pannello E' un bel pannello Non è ovviamente Un top di gamma Assoluto Però è un bel pannello Non ha gli RGB Degli Aorus Però è un bel modello Anche il 27 Costa sotto i 400 euro Già adesso È un buon Molto simile Agli AD27 Di Aorus In salsa Meno RGB Anche per un discorso Di economia di scala E tutto Però ragazzi Sui monitor Veramente sono contento Ed è interessante Perché ragazzi È vero che c'è Scarsità di schede video Però il gap prestazionale Sta aumentando Con le schede video Quando torneranno disponibili Tutti quanti Se ne doteranno Eccetera eccetera Quello che manca adesso Visto che è ancora Super diffuso Il Full HD È il passaggio Alla risoluzione superiore E con tutti questi monitor Disponibili Tra UV QHD E QHD Come quello di ieri È il momento Magari di aggiornare lì E aspettando La disponibilità Delle schede video Eh sì Perché ragazzi La fascia bassa Delle schede Come abbiamo detto Anche negli altri video Sarà Permetterà tranquillamente Di giocare in 60 FPS In QHD Se i rumor Della 60 Ti Sono veri E va veramente Più di una 80 Super È come abbiamo detto Noi nel Nel video Che abbiamo fatto Cioè la scala è quella Con la 30 e 50 Che sarà una 20 e 60 Quindi I QHD 60 FPS Li fate tranquillamente Se può Anche con Sicuramente MD In rasterizzazione Farà anche meglio Quindi paradossalmente Andrà anche meglio MD Se poi compariamo Anche la linea Quindi In questo momento Un QHD Ad alto refresh rate È da prendere È da prendere Ed è una bella mossa Ed è anche il momento giusto Sta uscendo veramente Tanta roba E finalmente È il prezzo giusto Esatto Sono stracontento 4K ci pensiamo Un altro anno 4K Parte che poi dipende Anche dal polliciaggio Perché 27 Solo te li compri Per fare i test E sei l'unico Che è consentito Chiunque altro Li prenda 2 2 Secondo non lo prendi Ti hanno concesso 1 e basta Già Va a 900 euro È andato a 900 euro Ieri Se baciavi la mia ragazza Ci rimanevo meno male Alto tradimento E in generale Sono dati anche sconto Tastire logico Di fascia bassa E i Viper Di Razer Per il competitivo Molto validi Tutti questi dati Tutti questi dati Ovviamente Non sono aggiornati Comprensivi Di questi due giorni Di Black Friday O perlomeno Non totalmente Quindi sono quelli Della settimana Più in generale Beh però ci sono anche Molti Sono saltate fuori Sono saltate fuori Un sacco di offerte Da ieri a oggi Sulle periferiche Quindi sicuramente Saranno sballate Ce ne saranno tantissime Che avete comprato Fateci sapere Qua sotto Che cosa avete comprato Ma state sintonizzati Perché lunedì C'è il Cyber Monday Ragazzi Quindi magari Viene fuori qualcosa Qualcos'altro Che ripeto In questo periodo Di difficoltà E siamo tutti consci Però iniziate a risparmiare 20 Come ho detto 20 30 20 30 E da una 70 Passi a un 80 E da una 70 Passi a un 80 Fateci sapere Cosa ne pensate Di tutto questo video Tutto questo discorso Tutte le idee Fateci sapere Quello che volete Eccetera eccetera Alla prossima ragazzi